Sono molto contento di aver partecipato a questa iniziativa a favore dell'Umbria, una regione che adoro e dove spero di venire presto a trovare gli Umbri e le Umbre e anche gli Umbri che sopportano. No, va bene, vi saluto, sono contento veramente, in bocca al lupo e ho fatto la cosa con molto entusiasmo, con la delitto con l'intusiasmo.